Un consiglio comunale, quello di quest'oggi, è abbastanza anomala. Manca la minoranza, ma soprattutto in un consiglio dove alla fine i punti sono tanti, però senza un contradibattito sembra che si possa provare tutto così facilmente. Il perché, secondo lei, il sindaco non è avvenuto la minoranza? È un problema che bisognerebbe rigirare alla minoranza perché io penso che chi è assente ha sempre torto. Hanno motivato su alcuni punti che non ci sono i pareri di legittimità, su una delibera non mi pare sia così perché ci sono tutti i pareri favorevoli e d'altronde noi non stiamo facendo nient'altro che risolvere due problemi fondamentali. Uno è di dare ulteriori impulso alla ricostruzione cercando di completarla e quindi facendo degli atti amministrativi necessari per poter dare possibilità a tutti i cittadini di farsi una casa. Ricordiamo dopo 14 anni. I primi sette hanno iniziato, stanno in forte stato di avanzamento. Adesso c'è necessità di far partire gli altri venti che devono iniziare pure loro la ricostruzione. Non dimentichiamo che diamo la casa a chi ne ha diritto da 15 anni ma nello stesso tempo mettiamo pure in modo un po' di economia nel paese dal momento che c'è una fame proprio di lavoro, le imprese edivi soffrono e quant'altro. Quindi facendo questi atti noi stiamo cercando di far riuscire il nostro paese dalle secche di una crisi che sta coinvolgendo quasi tutta l'Europa. Sindaco, sono in dirittura d'arriva, sappiamo benissimo che il palazzetto della sport si aspetta solo il via dei lavori. È un consiglio comunale e in queste cose c'è stata una proposta da parte dell'assessore esterno Cioffi sul femminicidio. Quindi sono proposte e vengono ben accolte ma senza una controbattuta sembra tutto scontato e anche la popolazione è un pochino frastornata. Vabbè questi sono i fatti, il palazzetto dello sport sembra una cosa così. Noi abbiamo intercettato un finanziamento europeo, ci abbiamo lavorato da mattina a sera, dopo tre anni di una lunga burocrazia abbiamo fatto il contratto, abbiamo consegnato le carte a Roma, ma la settimana prossima ci danno l'ok e quindi faremo una bella manifestazione di inizio lavoro e non è una cosa da poco in questo periodo. E quindi è un vando, un punto che l'amministrazione ha promesso nella campagna elettorale che si realizza. Per quanto attiene poi il fatto di queste delibere anche di civiltà, cioè che invitano il Comune a costituirsi parte civile nei procedimenti per femminicidio o per violenza ai minori, debbo dare atto all'assessore Claudia Cioffi di aver portato un taglio nuovo nell'amministrazione interessante che onora anche il Paese per un fatto di civiltà. La contraddizione quale potrebbe essere? Dovevano prendere solo atto che si tratta di cose concrete che si realizzano e che si fanno, non è che ci sia un contraddittorio.